Grazie a tutti Fai il suo gioco, Edo, stai tranquillo, stai tranquillo. Fatti di scioltezza, Edo, usa quei colpi sciolte. Fai il suo gioco, Edo, bravo, 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 ora rimetti anche tu. Fai il suo gioco, Edo, bravo, 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 bravo. Primo richiamo angolo blu, meno un punto, colpisce dopo lo stop. Primo richiamo angolo rosso, meno un punto, colpisce dopo lo stop. Ok, un'altra cosa. Edo, bravo, 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 bravo. Centro, tiro i colpi di Dedo, quando scrivi, vieni. Non ti colpi di Dedo. Non ti fai prendere dalla rabbia, stai tranquillo. Tanti colpi, papapam, due, tre. Mi dai la carta di Dedo. Vai. Dritti, e poi due colpi dritti. Usa quei di qua. Corpi dritti. Vai. Dice te. E due braccia. Direcchi veloci. Bopopopop. Bopopop. Tira il diretto, sì, il diretto destro. Prima il diretto destro. Bravo, così, a te. Bravo, ma poi ancora il testo. Vedi che mancino. Prima il diretto destro. Faccio col destro di nuovo, di nuovo, col destro, col destro. Usa quei diretti. Vai. Diretti e via. Devi pungere e andare via. Pungere e vai via. Vai via, non stare lì. No, 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 no. Dai, continua, è finita. Siamo quasi alla fine. Dai, dai, dai. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Grazie a tutti.